Doggy Style è un centro di tolettatura cinofilo nato nel dicembre 2013. È suddiviso in due zone principali, la prima, quella vicino all'entrata, dove lavoro ed opero completamente io, dove le persone dietro una vetrata possono assistere completamente a tutti i tipi di trattamenti che vengono utilizzati, che vengono effettuati sul cane. Mentre nella zona retrostante del negozio ci sono due box service dove le persone in completa autonomia hanno la possibilità di lavare ed asciugare completamente il loro cane. Mi è stato chiesto di lavare anche un criceto perché mi sembrava, e io ovviamente ho accettato, perché mi sembrava inopportuno rifiutare questo genere di richiesta, perché ovviamente tutti gli animali che hanno del pelo hanno bisogno comunque di igiene e cura. Doggy Style utilizza prodotti 100% naturali, a pH neutro, quindi che non danno eritemi, non danno nessun tipo di problema al derma del cane. Vengono utilizzati i prodotti migliori presenti sul mercato, sono prodotti di origine americana. Il target di riferimento di Doggy Style è tutte quelle persone che possiedono un animale a due o quattro zampe che hanno del pelo. Il punto di forza del self-service è sicuramente il prezzo. Si parte da una cifra minima di 7 euro fino ad arrivare a un massimo di 15 per cani di grossa taglia. Viene fornito poi gratuitamente spazzola e pettini, guanti e pettorine monouso per non bagnarsi e la catena per legare il proprio amico quattro zampe, senza dimenticare anche l'utilizzo dello shampoo e dei balsami di prima qualità. Siamo in via Foroboario 2-C a Ferrara. Il numero di telefono per appuntamento è 366-10-83-290.